Il signor Galas Il signor Galas A dirlo mi fa spavento, non mi sento ma insomma. Allora devo pensare che cosa è avvenuto nel 2016, di particolare, cose che mi hanno particolarmente interessato. di particolari, nascite particolari in casa mia in organizza, basta quattro, separazioni neanche, attività, un'attività particolare che molti conoscono, quella è stata l'attività e politicamente parlando ragazzi, tristezze e tristezze. Gli edifici di cui ho parlato e ancora l'ha abbandonati. Sull'ospedale sapete come la penso e so di avere tutti contro, ma io sostengo che tecnologicamente, ripeto tecnologicamente, questo ospedale è superato. Vedremo se ho ragione io o no. Io insisto per l'ospedale unico al Santa Chiara e insisto per l'ospedale che lavora 24 ore su 24 come la Cartiera, come l'Acquafille, come la Dana. Questi ospedali in America, in Germania, nei paesi evoluti, lavorano 24 ore su 24, noi sera è il venerdì e fa le urgenze solamente, 24 ore su 24 e i periferici diventerà. Visto che il cancro c'è ancora e nel momento in cui non è pur il cancro che sarà Muccio o Devecci, bisognerà sistemarli in residenze e questi ospedali penso che saranno trasformati in ospedali geriatrici. Questo nel futuro. Vedremo. Il Gala se mi fa segno che stamano devo tenere la zocca, ubbidisco. Allora gli ospedali, la battaglia, cosa volete, il pediatrico e tutto. Adesso pensate, quante volte con la pediatria mi viene anche da ridere, perché sta avanzando l'idea del parto indolore. Allora che ho l'anestesista, l'anestesista magari è il sabato non il gay perché le so la roveretto. Guardate, non entro nel merito, io rimango del mio pensiero. Per quanto riguarda altre cose politicamente, cosa volete mai che fare? Non hanno un obiettivo. Io avrei sognato Arco, Arco, l'Amerano del Trentino. Il mio sogno, di questo ne abbiamo parlato in alcune puntate, questo non si avverra, i giardini sono ancora in disordine, davanti alla posta di Arco le cose non vanno. Siccome questa è una trasmissione, mi si dice, mi si fa segno, che non riguarda solamente Arco, ma che siamo ascoltati anche in Val di Ledro, anche a Nago e anche a Drò, il punto importante che riguardava tutti era l'ospedale e quindi altre cose sono legate ad Arco e quindi abbiamo parlato di altri argomenti, abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di sessualità, su tante cose, ma sono cose che non sono mai riuscito a risolvere. Le mie idee evidentemente sono o troppo avanzate o non sono di nessuna attualità. Non saprei dirvi, una cosa che ho notato è che questa amministrazione, nonostante che ci siano le critiche, nonostante che il Tamanini parla, nonostante che qualcuno mi fermi per strada e mi dica dottore lo fa bene ma dire quella roba lì, ecco una cosa voglio dire. Mi hanno fermato delle persone e la maggior parte dei consensi li ho tenuti sugli stipendi che hanno i nostri dirigenti provinciali e sullo stipendio che prende il direttore dell'azienda sanitaria. La cosa che ha colpito, che dicono anche in generale quelli che mi hanno contattato, che sto premio di produzione a un che ciapa 350 mili euro, a quell'altro che ne ciapa 200 mili, all'altro che ciapa 150 mili, non lo capiscono, non capisco perché si debba dare il premio di produzione a uno che è stato pagato perché faccio un determinato lavoro. Se lo fai e arriviamo e mi chiediamo anche al premio, ma dove chiediamo il premio ragazzi? Ma che ti fa dal camale? Abbiamo a fare con un mondo di pazzi, vedrete se va al governo 5 stelle. Cosa ci aspetterà nel 2017? Scrive, in questo momento mi ha scritto perché si vede che forse non so come. Cosa ci aspetterà nel 2017? Caro Galas e caro Parisi, che cosa ci aspetterà? Punto di domanda. Faranno le elezioni anticipate? Non le faranno anticipate? vincerà il 5 stelle? Cosa farà il 5 stelle? Io vi dico la verità, una cosa ho deciso, una cosa su questo credo di essere abbastanza, penso che la destra riceverà più il mio voto, penso che un uomo di destra come Carlo Tamanini che è sempre stato un vecchio liberale, non so se voterò mai più a destra, visto quello che sta succedendo e visto questa poltiglia di idee, questa mancanza di obiettivi, non so. Sapete che a queste trasmissioni ho detto più di una volta che mi venneria la voce della Corea del Norte perché la gheffaria d'un bene ragazzi, la gheffaria d'un bene la Corea del Norte a certe categorie, ah ve lo dico io che la gheffaria, altro che, come se ci ammela, aiutate, cos'è il pre che dice il 5 stelle lo stipendio a tutti, come se ci ammela lì? Il diritto di cittadinanza, ecco, con la Corea del Norte lo sistemaria subito il diritto di cittadinanza, dicomi. Comunque probabilmente la Corea del Norte non verrà, ma io sono convinto, l'ho detto in una trasmissione passata, che se le persone che oggi hanno difficoltà anziane, che hanno una certa età, anziché avere i 70, gli 80, i 90 anni, avessero 20 anni, ah che seria la rivoluzione, garantito al limone, che seria quel che è successo con il benedetto Stalin, quel che è successo con la rivoluzione francese, che seria certamente una rivoluzione, perché certe disuguaglianze, se non vanno bene a me, che sono uno che ha una certa posizione economica, non vanno bene a me, immaginiamo a quel che lei a Milano l'ha perso il lavoro a tempo pieno. Il diritto di stipendio di cittadinanza è una di queste battaglie. Vedete, in una trasmissione io avevo detto che i clienti bisogna pagarseli, i clienti bisogna pagarseli. È questo un po' il concetto che c'è stato nel momento in cui governava la democrazia cristiana e aiutata di sottobanco dai comunisti, perché bisognava creare posti di lavoro, se c'erano posti di lavoro la gente spendeva di più, il mercato girava e giravano i soldi e c'era un bene. Però nessuno pensava che c'era un debito pubblico che continuava a aumentare. Era come quella famiglia che avendo 1000 Euro al mese ne spendeva 1500 e continua a andare a torre i soldi in prestito alla banca e la banca la continua a darghe, continua a darghe, continua a darghe. Io spero che non venga giorno in cui dice ragazzi bisogna pagare, pagare se no. Pannella diceva che quel debito lì, basta cancellarlo, non so. Queste sono cose che sono lì sopra di me. Allora auguri per buon fine dell'anno e vedremo che cosa ci daranno i nostri politici e con quale legge li voteremo nel 2017. Buon augurio. Io ci sarò comunque a fare le mie battaglie, mi dicono quei due signori, però io avrei intenzione che col primo dell'anno il sottoscritto chiudesse la bocca e si ritirasse a vita privata e lasciasse il posto a una persona più giovane, largo i giovani gli ostiani, non so. Auguri. E momento, auguri particolari alle mie sostenitrici, alla Ada, alla Gina e soprattutto alla Pia che possa passare un ultimo dell'anno stupendo. Auguri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.